Tokyo riporta un guadagno dello 0,30%, terminando a 33.036,8 punti Si è mossa in territorio negativo Shenzhen, in ribasso dello 0,73%, archiviando la giornata a 10.534 punti Tutti negativi gli indici di piazza affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse Francoforte scende dello 0,79%, Tentenna Londra, che cede lo 0,68%, Calo deciso per Parigi, che segna un meno 0,91% Il settore bancario, con il suo meno 1,18%, si attesta come peggiore del mercato Retrocede banca MPS, con un ribasso dell'1,97% È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI composito, che dell'ISM non manifatturiero In Unione Europea stamattina i mercati sono in attesa del PMI composito Sempre in Unione Europea domani i mercati sono in attesa delle vendite al dettaglio In Unione Europea